Un nuovo punto di riferimento culturale per la città di Molfetta e non solo. Casa Finocchiaro riapre le porte per ospitare tutto il patrimonio documentario della vita di Beniamino e di sua moglie Elena. Fortemente voluto dalla fondazione intitolata proprio all'ex presidente della RAI, l'archivio sarà un punto di ritrovo utile per tutti i giovani che vogliono approfondire la loro formazione. Il tutto secondo gli insegnamenti di Gaetano Salvemini, maestro ispiratore di Beniamino Finocchiaro. L'eredità morale che ci ha lasciato Elena Beniamino Finocchiaro e questo grazie a una ditta specializzata, la ditta Balacco e due giovani progettisti che hanno messo su questo bellissimo posto che sarà funzionale non solo come archivio ma anche come centro di ricerca e studio per i giovani. Era la volontà di Beniamino, quello di aiutare i giovani a studiare, che è una vecchia tradizione che viene da Gaetano Salvemini e anche in occasione di questo noi ogni anno daremo delle borse di studio importanti, quest'anno ne abbiamo date sei, per aiutare i giovani negli studi. 400 faldoni che ripercorrono una strada iniziata negli anni 50 in Consiglio Comunale è proseguita alla Camera dei Deputati, alla guida della Commissione Cultura del PSI, della Regione Puglia, della RAI e della città di Molfetta, fino ad arrivare al periodo da senatore, sottosegretario al Tesoro ed attivissimo studioso dei bilanci pubblici dei grandi del mondo. Un patrimonio importante che racchiude la vita di Finocchiaro e della Prima Repubblica, un ricordo che vive anche nelle parole di Claudio Martelli, storico numero 2 del PSI di Bettino Craxi. Di cose importanti ne ha fatte, ne ha scritte, ne ha dette molte, sia nelle scelte politiche fondamentali del secondo dopoguerra, quando rifiutò di mettersi con i socialcomunisti e scelse la strada socialdemocratica, sia quando ritornò nel partito socialista, sia per il suo impegno meridionalista, sia per tutto quello che ha fatto per la sua città, per Molfetta, sia quello che ha fatto per insegnare come si fa un bilancio di un'amministrazione pubblica, studiando la dispersione, gli sprechi, tutti gli errori che erano stati fatti. Alla fine della cerimonia la consegna degli attestati ai ragazzi vincitori del BAN, promosso dalla fondazione, è di ricordo di Tommaso Minervini, allievo ed amico della famiglia Finocchiaro. Io ho conosciuto, come ho detto, da Gnamino Finocchiaro a 17 anni, quindi l'unica cosa che posso dire è che dove ho cominciato probabilmente li finirò.